A passeggio tra le stradine di uno dei borghi più caratteristici della regione, lo chiamano il Balcone delle Puglie, siamo a Minervino Murge, il trekking urbano nell'ambito della 17esima edizione di sogni nelle notti di mezza estate, promosso dalla strada dell'olio extravergine Castel del Monte. L'iniziativa nasce perché Minervino è poco conosciuto, proprio per scoprire sia il centro storico sia i vari monumenti, i musei presenti nel territorio. Le bellezze di un posto lontano dai soliti itinerari turistici ma comunque ricco di storie e tradizioni, anche culinarie. Una gradita sorpresa per chi non lo conosceva, altrettanto per chi ci è tornato dopo tanti anni. Questa cittadina, ma devo dire comunque tutti gli angoli sono abbastanza suggestivi, anche la città insomma per come è fatta è molto particolare, niente da invidiare a Matera secondo me. Questa città io diciamo che l'ho vissuta fin da bambina con il papà, l'ho riscoperta negli anni perché ho iniziato a girarla e a vedere tutti gli angoli di questo piccolo paese che lo chiamo il Balcone della Puglia. Poi mi affascina molto il fatto che sia tutto bianco, che da giù vedi proprio le case bianche, poi ogni casa è diversa dall'altra. Io che abito in una città come Milano, ovviamente apprezzo molto queste particolarità.